Capitano Ventosa, fortuna, amici a casa, nessuna magna! Sapete perché? Perché oggi vi spiego il funzionamento di internet. Guarda qua, basta schiacciare. Poi la mail... Bene, perché non è proprio... Così ci vorrebbe un esperto! Ma dove trovarlo? Dove? Eccolo! Marco Camisani Calzolari! L'agenzia delle entrate manda un i-mail. O perlomeno la presunta agenzia delle entrate. Attenzione, che dice sostanzialmente? Dice, hai diritto a un rimborso del tuo canone Rai. Per ottenerlo, lei deve scaricare un modulo, compilarlo ed inviarlo all'e-mail. E lo so, la mail è finca! Il problema non è la mail. Lei l'ha inviato il modulo? Sì! Ma soprattutto prima l'ha scaricato? Eh certo! E adesso lei è pieno di virus. Lei praticamente in questo momento potrebbe aver perso tutti i suoi file. E il pirata che gli ha rubato i file potrebbe addirittura chiedere un riscatto per riaverli indietro. Che magraña! Super magraña!